Chiara Levi, curatrice della mostra Ladies and Gentlemen, presentata a Milano recentemente, una mostra totalmente femminile. Cosa ci vuoi raccontare? Sì, allora, l'idea è nata da me e da un artista che si chiama Johnny Cobalto e l'idea era un po' quella di dare spazio alle donne che fanno arte, quindi abbiamo preso principalmente l'illustrazione perché spesso c'è anche nell'ambito artistico un po' una mancanza di volti femminili e quindi abbiamo pensato di raggrupparli in una collettiva che facesse vedere un po' il meglio dell'illustrazione femminile, diciamo abbastanza giovane, infatti siamo più o meno, quasi tutte le artiste sono sotto i 35 anni. Sono illustratrici che in realtà non sono assolutamente le prime armi perché molte di queste hanno delle collaborazioni molto importanti con testate giornalistiche internazionali, fanno copertine di libri per case editrici molto famose, lavorano con la pubblicità, con l'advertising online e non, e quindi hanno delle carriere molto solide ormai avviate, quindi ci sembrava bello trovare un luogo in cui raggrupparle anche per far vedere quante sono e quanto sono brave.